Sì, effettivamente hanno destato non poco allarme sociale questi eventi che hanno, come detto, turbato la serenità dei piccoli centri di Mitrofiabibo Valencia, accentuando un fenomeno prima non molto percepito, comunque sicuramente meno presente che negli ultimi tempi, e hanno allarmato la collettività non solo per il fatto reato insieme, ma anche per la tipologia delle vittime di questi reati, che erano per lo più persone anziane, che vivevano da sole e che venivano colpite nella loro intimità e nella loro sicurezza, che era proprio la loro abitazione. Il riscontro che abbiamo avuto dall'attività investigativa ci ha permesso di capire che vi era uno studio preventivo all'azione vera e propria. Si cercava di capire l'abitudine della persona anziana quando era solita uscire dalla propria abitazione, lasciando incustoditi i propri averi, e a quel punto la coppia entrava in azione. È chiaro che il punto di rottura a questa strategia nasceva nel momento in cui la previsione non andava a buon fine e quindi ci si poteva trovare davanti alla presenza dell'anziano. Ecco, in questo caso abbiamo avuto proprio la rapina che viene contestata ad uno degli autori che ha originato chiaramente da un furto calcolato male. Questo comunque ha maggior ragione all'arma e preoccupava, proprio perché metteva in luce la determinazione nel compimento del reato. Sì, abbiamo recuperato parti dei moni di Noro sottratti in alcuni di questi episodi che sono stati riconsegnati dagli eventi di ritto, cosa che capita non sempre. Noi dalla collettività di Vibo Valencia stiamo avendo sempre di più piacevoli scoperte, vedendo una cittadinanza sempre più attiva e partecipe all'attività investigative dei carabinieri sul territorio. Grazie. Grazie. Grazie.